Salve, sono il dottor Claudio Saracino e sono a parlarti di questo audio MP3 di CS dal titolo Bellezza, bellezza ed è rivolto solo alle donne che vogliono avere una bellezza interiore e poi rifletterla all'esterno. Con questo audio di CS molto potente dal titolo Bellezza tu ti sentirai la donna più bella del mondo. Sono soltanto parole semplici, trasparenti, create ad arte, create ad hoc che ti trasformeranno la vita in positivo, sarai desiderata da tutti, da tutte le persone che ami che al momento non ti guardano neanche. È una cosa incredibile, lo solo puoi immaginare, però puoi scegliere o scaricarti quest'audio molto potente e naturale, costituito da parole di CS comprensibili, trasparenti, senza nessun effetto indesiderato, senza nessuna manipolazione, pulite, però create ad arte, ad hoc che cambieranno la tua bellezza in positivo, una bellezza mai vista fino ad oggi e attirerà a te il meglio del meglio della tua vita e ti sentirai la donna più bella della terra oppure rimanere come sei, solo a te la scelta. Queste sono le due strade a cui ti trovi davanti e che a te scegliere o non scegliere. Faccio presente che quest'audio di CS ricalca il mio metodo, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola che proviene direttamente da Los Angeles Beverly Hills e molte molte persone, anche star famose di Hollywood, hanno utilizzato quest'audio mp3 di CS e sono veramente, hanno irradiato una bellezza incredibile sulla loro persona e hanno attirato a sé persone belle come loro, donne incredibili a dir poco. Devi soltanto fare azione, scaricarti quest'audio mp3 di CS e può magari lasciare una videotestimonianza perché serva anche ad altre donne che vogliono veramente essere belle a livello naturale, senza doparsi, senza drogarsi, senza mettere mano ai ferri, nulla di nulla di nulla. Trattasi soltanto di parole pulite, trasparenti, semplici, però create ad arte, create ad hoc. Fammi tutte le domande del caso, se hai bisogno, se vuoi approfondire oppure scaricati in completo anonimato, tranquillamente da casa tua, da qualsiasi parte del mondo in cui risiedi, quest'audio è potente dal titolo bellezza e capirai il perché. Inoltre il metodo di CS funziona anche per chi non vuole essere aiutato, non può essere aiutato un tuo caro, una tua cara, in questo caso perché quest'audio mp3 di CS funziona soltanto per le donne, tua figlia magari, la tua mamma e compagnia bella, d'accordo? Visita il mio sito internet www.iprologeassociati.com, la mia fanpage su Facebook, i pronti pronti del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere i pronti, soluzioni di CS, il dottor Claudio Saracino e facer condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che ne può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere i pronti, soluzioni di CS, il dottor Claudio Saracino e scaricati subito quest'audio di CS dal titolo Bellezza Super, qua sotto o qua giù non so dove hanno messo il link perché non sono io a gestire gli audio mp3 di CS, un bacio e un abbraccio e alla prossima, dal dottor Claudio Saracino, ciao!